Eccoci nel post partita di Carpenedolo a Cazzago Bornato, siamo qui con il mister del Cazzago Bornato al quale chiediamo, mister, cos'è che non è andato in questa partita? Siamo partiti male, abbiamo commesso subito un errore importante che abbiamo pagato, siamo andati in svantaggio subito, dopo abbiamo subito il raddoppio su un calcio di rigore per cui quando parti con un approccio sbagliato poi è dura dover rimettere insieme la partita. Abbiamo stati bravi ad accorciarla verso la fine del primo tempo, però è stata una partita in salita anche perché poi su un campo non facile non è così semplice poi da raddrizzare. Ci abbiamo provato, oggi però non è la giornata perché visto tra l'infortunio, pronti via il giocatore che abbiamo subito, la partenza in questo modo mettiamola come una giornata negativa. Comunque merito al Carpenedolo che ha fatto tre punti. Quanto può influire in una partita di calcio un errore come quello di inizio partita che ha spianato la strada a Botturi? Sì, può influire, però poi abbiamo anche fatto gol, ci abbiamo provato a costruire, ma oggi, ripeto, non era facile su un campo di questo tipo. Poi avvantaggi loro perché vai in svantaggio di due reti, ti scopri, loro hanno giocatori che comunque hanno nello spazio, hanno tanta gamba, per cui poi vai a complicarti la vita ancora di più. Sicuramente ha influito quello, ha influito il rigore subito che è stato un rigore stupido, ha influito l'approccio alla partita, quindi oggi abbiamo meritatamente lasciato i punti agli altri. Grazie mille, mister. Proseguiamo con il nostro mister Sandro Novazzi. Mister, il campo sintetico qua di Via Zonta oggi ha portato bene i nostri colori. Ma di là del campo sintetico sicuramente abbiamo fatto una grande prestazione contro la prima in classifica, quindi un grande risultato, abbiamo sofferto quando c'è da soffrire, ma poi i ragazzi sono stati bravi a portarla in fondo, e quindi complimenti, avevamo la possibilità di chiuderla, invece abbiamo avuto meno precisione nel chiuderla, però ripeto, complimenti a questi ragazzi che hanno tirato fuori qualcosa di importante e hanno fatto qualcosa di importante. Gli innesti del mercato invernale hanno dato sicuramente una marcia in più alla squadra, perché l'impressione è che adesso con questi nuovi giocatori anche tu puoi adattarti, adattare la squadra a giocare in molte maniere. Ma i moduli sicuramente lo possiamo variare. I ragazzi che sono arrivati, l'avevo già detto, hanno dato della qualità e ci hanno dato una mano, ma poi ripeto anche il gruppo che è con me da tanti anni ha risposto alla grande, perché oggi ha fatto il botto, quindi tutti importanti. Abbiamo fatto questa partita prima in classifica, avevamo delle assenze importanti, ma non ci siamo mai lamentati, abbiamo veramente messo tutto quello che potevamo fare, quindi complimenti a questo Carpenedolo che ha vinto contro la capolista. Grazie mille mister. Ciao, grazie a voi.